Grazie a voi, ben ritrovati alle notizie di oggi, tra poco presentiamo anche la scheda introduttiva del bilancio, che gennaio, che inizio anno è stato questo per la giunta Raggi, Claudia? Beh, di ombre e luci, paradossalmente, perché io non vedo personalmente solo ombre, anche se l'inchiesta sul sindaco potrebbe farlo pensare, cioè nel senso io ritengo che come tanti altri amministratori locali in Italia, un'inchiesta per abuso d'ufficio e falso ideologico sia nell'ordine delle cose, certamente per il Movimento 5 Stelle, quando tocca al Movimento 5 Stelle fa più scalpore, perché il Movimento 5 Stelle si è presentato agli elettori, ha richiesto voti, ha ottenuto la fiducia degli elettori, sventolando proprio lo standardo dell'onestà e dell'alterità rispetto agli altri e Virginia Raggi è stata eletta in un momento in cui ancora non era stato rimaneggiato il codice etico per cui anche indagati si veniva sospesi e quindi chiaramente fa più impressione a livello politico, agita di più, dopodiché un'inchiesta su abuso d'ufficio è abbastanza all'ordine del giorno per… Non si toglie a nessuno. Non si toglie a nessuno, questo per quanto riguarda le ombre, sulle luci direi che comunque il fatto di aver trovato finalmente la quadra alla giunta e varato un bilancio previsionale che comunque è un risultato positivo per l'amministrazione perché fatto nei tempi corretti, credo che sia un punto di partenza ritardato rispetto a giugno, ma di partenza. Adesso ci si augura che anche tra le delibere che la giunta licenzierà ce ne siano anche di interesse per la città e non solo per le nomine negli staff, visto che alla conta un terzo di esse più o meno è stato destinato proprio alle nomine e alle poltrone. E allora entriamoci nelle pieghe di questo bilancio che è stato salutato ieri con legittima soddisfazione proprio dal gruppo capitolino del Movimento 5 Stelle all'atto della sua approvazione. Benedetta Bertini. Con 29 voti favorevoli e 15 contrari, l'Aula Giulio Cesare dopo una lunga maratona di una settimana ha approvato il bilancio di previsione 2017-2019 di Roma Capitale, una manovra da oltre 5 miliardi e 300 milioni di euro che prevede per il triennio un piano di investimenti di 577 milioni e 741 mila euro. Soddisfatta la sindaca Virginia Raggi che al termine dei lavori dell'Aula ha preso la parola ed ha parlato di un risultato storico. Ho parlato di un evento memorabile, infatti lo è, non solo perché avremo la possibilità di usufruire delle premialità concesse dalla legge per gli antilocali che danno il via libera al bilancio entro il 31 gennaio. Grazie al lavoro svolto Roma avrà anche una maggiore apertura di spazi finanziari e la possibilità di aumentare gli investimenti. Soprattutto riportiamo la legalità nei conti del Campidoglio. Con noi è finita l'epoca degli esercizi provvisori che duravano fino a marzo, quando andava bene, se non fino a luglio o d'oltre. Riconsegniamo alla città la possibilità di programmare le proprie spese e i propri investimenti. Un piano di investimenti dunque di 577 milioni di euro, di cui ben 430 milioni dedicati a trasporto e mobilità sostenibile. Di questi 297 milioni saranno assorbiti dalla metro C, ma sono previsti anche 20 milioni per nuovi autobus, altri 20 per parcheggio e nodi di scambio e 15,3 per i corridoi Eur Tor Decenci e Eur Tor Pagnotta. 62 andranno alla manutenzione urbana e stradale, 40 milioni di risparmi arrivano invece dalla voce Lotta agli sprechi. La tassa su rifiuti, la Tari, secondo quanto prevede la delibera propedeutica al bilancio, sarà ridotta dell'1,6%. Leggendo ancora il documento si evince che nel 2017 vengono stanziati 28 milioni in più per i municipi, risorse destinate in particolar modo ai servizi sociali. In arrivo infine 18,3 milioni per i beni culturali. Riportiamo la legalità in Campidoglio, ha dichiarato la sindaca che nel suo intervento si è voluta togliere qualche sassolino dalla scarpa. Roma approva il bilancio prima di tante altre grandi città italiane. Milano, non pervenuta. Mi spiace solo dover evidenziare che per le altre città non ho letto o sentito parlare di rischio default o commissariamento del Comune, come invece fatto per noi. Erano chiacchiere. Per la nostra città era il solito tanto rumore per nulla. Per fortuna oggi ci sono i fatti a parlare per noi. Una manovra di bilancio la cui genesi è stata molto travagliata. Prima la bocciatura da parte dell'Oref, poi la corsa dell'aura per l'approvazione dei 100 milioni di debiti fuori bilancio. Infine l'okè dell'osecutivo ai correttivi e l'ultimo parere favorevole ma con delle riserve dei revisori dei conti. Ma la Raggi parla anche qui di una sfida vinta. Volevamo approvare il bilancio entro il 31 dicembre. Un traguardo alla nostra portata visto che abbiamo adottato il progetto in giunta il 15 novembre entro i termini di legge. Ma nel nostro caso l'Oref, organo di revisione economico-finanziaria del Campidoglio, ha chiesto di affrontare le enormi criticità create da decenni di malgoverno dell'amministrazione capitolina. L'Oref è stato particolarmente rigoroso insomma. E mi piace pensare che lo sia stato perché ha ritenuto che questa giunta, a differenza di tutte quelle precedenti, fosse in grado di accettare la sfida del rigore. E così è stato. Abbiamo vinto la sfida. Paglia da conto. Ti sembra più a suo agio nel suo ruolo di prima cittadina della capitale d'Italia, Raggi, dopo tutti questi mesi? A me sì. E l'avevo trovata più a suo agio anche in uno degli ultimi suoi interventi televisivi, quando è stata intervistata da Floris a Di Martedì. Da un punto di vista puramente dell'analisi, della comunicazione di quel piano là mi era sembrata più efficace, più sicura di sé, più convinta. Nonostante il momento particolarmente complesso per lei, perché insomma ricordiamoci che era chiamata, fu l'intervista in cui ammise di aver compiuto degli errori a proposito di alcune nomine, in particolare quella di Raffaele Marra. Io la trovo più, insomma come dire, meno a disagio rispetto a qualche mese fa. Probabilmente sente di avere l'appoggio, se non la simpatia, comunque l'appoggio interessato del capo del suo partito, Beppe Grillo e anche Davide Casaleggio, che ha sempre, questo va ricordato, frenato tutte le spinte contrarie insomma alla sindaca di Roma e ha sempre raccomandato prudenza con un occhio ben piantato sullo scenario nazionale. Ed evidentemente Virginia Raggi percepisce chiaramente che in questa fase è ancora così incerta, la sua posizione è cruciale anche per gli equilibri e per quello che il Movimento 5 Stelle vuole ambire sul piano nazionale. Non sarà così facile metterla da parte. Restiamo ancora in tema Roma, la svisceriamo ben bene questa vicenda capitale. Oggi abbiamo intervistato il Presidente della Commissione Trasporti, uno dei consiglieri anziani del Movimento 5 Stelle, Enrico Stefano. Ecco il suo commento odierno. Enrico Stefano, bilancio approvato, la Raggi parla di risultato storico mentre le opposizioni attaccano, sostenendo che sono stati portati avanti soltanto interventi a pioggia senza una visione di insieme. No, assolutamente invece la visione c'è stata una visione che è mancata negli anni scorsi, perché nella migliore delle ipotesi i bilanci di previsione in passato venivano approvati ad aprile e marzo, quindi ad annualità ormai inoltrata, ma ci sono stati anche casi in cui il bilancio di previsione veniva approvato a dicembre. Invece noi siamo riusciti a portare finalmente, a realizzare un documento di previsione vero, di visione della città, perché quando si riescono a pianificare gli investimenti a gennaio si hanno 11 mesi per poterli attuare e siamo riusciti quindi a fare un lavoro non solo quantitativo sul tempo, ma anche qualitativo, perché sono degli investimenti importanti nel documento. Parlo soprattutto del tema dei trasporti, ci sono gli interventi importanti che andiamo a finanziare, la corsia preferenziale su via Portuens e la corsia preferenziale su via Marconi che già sarà predisposta anche per una futura rete trambiaria. Sono anche interventi sull'isola ambientale del rione Monti, diversi ciclabili, tra cui la ciclabili su via Tuscolana, la protezione delle corsie preferenziali esistenti, insomma diversi investimenti che vanno a rilanciare questa città. Finalmente si torna ad investire sul trasporto pubblico negli anni scorsi, negli scorsi documenti di bilancio, appunto io l'avevo visto anche con i miei occhi, la mobilità e il trasporto pubblico non erano mai presi in reale considerazione. Finalmente invece abbiamo invertito questa tendenza e abbiamo segnato una svolta importante. Superate dunque tutte le problematiche evidenziate dall'OREF? Assolutamente, assolutamente sì. Ovviamente è normale che permangano delle criticità, ma perché la città di Roma, insomma, non lo scopriamo certo oggi, i precedenti documenti come sono stati redatti, le criticità, soprattutto debitorie che ci trasciniamo. Però non dobbiamo ovviamente né guardare al passato, ma dobbiamo guardare al futuro e quindi rimboccarci le maniche a lavorare. Lo abbiamo fatto, l'ha aggiunta, l'ha fatto in tempi record perché il parere negativo era arrivato dell'OREF, insomma, poco prima delle festività di Natale. Si è lavorato anche durante le festività di Natale per portare il documento il prima possibile in aula e così beneficiare dei vantaggi importanti che hanno ottenuto i comuni che hanno approvato il bilancio entro il 31 gennaio. Sono stati pochissimi comuni, nessun comune tra le grandi città, Roma è riuscito a farlo e quindi ha avuto anche dei vantaggi economici importanti per aver approvato il bilancio di previsione entro il 31 gennaio. Sono giornate importantissime per la Raggi, a breve ci sarà questo interrogatorio. Quanto pesa questa vicenda sul Movimento 5 Stelle Capitolino? In realtà non pesa più di tanto. Noi continuiamo a testa bassa a lavorare, siamo sicuri, la sindaca chiarirà con ogni aspetto e quindi in realtà è stato più dall'esterno, i media forse hanno esasperato questa situazione, ma in realtà noi in questi giorni vi garantisco abbiamo pensato solo al bilancio e al futuro della città. È sincero Stefano quando dice che non pesa la vicenda giudiziaria? Pesare pesa evidentemente, non c'è dubbio, però attenzione perché il destino di un'amministrazione lo dovrebbero decidere, io credo che lo debbano decidere i cittadini e non le procure, cioè nel senso che finché anche le forze di opposizione continuano a derogare ai magistrati, alle procure la funzione di colpire, azzoppare un amministratore di qualunque colore politico o partito sia e non si caricheranno loro della responsabilità, non saranno all'altezza del ruolo di opposizione, questo rimarrà un problema, è un problema di democrazia. Ora è chiaro che la magistratura deve fare il suo corso, io ho salutato con favore quella che è stata definita come la svolta garantista in casa Movimento 5 Stelle che chiaramente di svolta garantista non aveva assolutamente nulla, è una ovvia svolta politicamente opportunista, insomma perché man mano che si conquistano città, regioni eccetera può succedere appunto che gli amministratori incappino in alcuni errori, abusi e che la giustizia indaghi e non si possono subito mettere da parte a rogo sospesi, cioè sarebbero decimati in poco tempo. Dopodiché io credo che da quello che ci dicono i sondaggi Virginia Raggi ha perso una parte del proprio consenso, ma è una porzione ancora tutto sommato limitata, cioè guardate che quando è uscita la classifica del Sole 24 ore sui sindaci più amati d'Italia, a parte che queste classifiche non si fanno prendendo in considerazione il risultato del ballottaggio, cioè allora dal 67% la Raggi è scivolata al 44%, che era quello che aveva preso al primo turno. Si fanno sui risultati del primo turno, è così. Dopodiché vogliamo dire che la Raggi è l'ultima in classifica, la più a confronto dell'Appendino, ma sicuramente avrà deluso molti del proprio partito, eccetera. Ma io credo che il consenso intorno a Virginia Raggi sia ancora molto alto, nel senso che comunque anche se avesse perso il 20% del consenso, cioè quanto conquistato al ballottaggio, la base che l'ha portata al secondo turno, alle scorse elezioni, è ancora compatta. Non so se intorno a Virginia Raggi o intorno al Movimento 5 Stelle, ma comunque se andassimo a votare dopo domani a Roma, io penso che le altre forze politiche non avrebbero da stare molto serene. Aggiungiamo un altro contributo a questa nostra conversazione sul destino del governo 5 Stelle a Roma. Abbiamo chiesto un'opinione a chi questa città la conosce molto bene, anche perché l'ha anche amministrata, seppure in un breve parentesi con il sindaco Alemano. Stiamo parlando di Umberto Croppi, questo è il suo parere. Una boccata d'ossigeno per Virginia Raggi, l'approvazione del bilancio previsionale 2017-2019, però la sua analisi, in particolare sul futuro della sindaca, la sua analisi è impietosa. Perché? Perché lei sostiene che la Raggi cadrà prima o poi, ma non per un arrivo eventuale di un rinvio a giudizio, ma perché politicamente non regge. Ci spiega quest'analisi? Quello che io sostengo, non solo io lo sostengo, ma ritengo che sia scontato, sia un dato acquisito, è che il Movimento 5 Stelle, che ha fratture durissime al proprio interno, non ha interesse per il Movimento, nessuna delle componenti, a farla saltare, perché potrebbero esserci elezioni e politiche fra pochi mesi, quindi avrebbero ripercussioni negative. Ma altrettanto il PD, che addirittura per bocca della sua capogruppo e addirittura del segretario nazionale Renzi, nei giorni scorsi hanno dichiarato entrambi che non chiederanno le dimissioni della Raggi. Ora questo è un modo un po' goffo per affrontare le cose, perché le dimissioni si chiedono o non si chiedono, non è che si dichiara che non si chiedono. Quindi la debolezza di questa amministrazione, ripeto, lo dico con dispiacere, ci sono persone in questa giunta che io stimolo, prima di tutto Berdini, l'assessore all'urbanistica, l'assessore alla cultura Bergamo, l'assessore a Marzano all'innovazione, sono persone che hanno le qualità, però non hanno nessuna forza politica, sono espressioni neanche all'interno del movimento, perché loro sono persone estranee alla storia del movimento. Se si votasse in queste condizioni, lo stato di tenuta, di credibilità del PD è tale per cui forse prenderebbe addirittura meno voti dell'altra volta. Il centrodestra, che una potenzialità potrebbe esprimerla, abbiamo visto alle scorse elezioni, la Meloni era l'unico candidato che era in grado, forse non di vincere, ma di arrivare al ballottaggio, ma è talmente diviso e probabilmente nessuno nel centrodestra ha la voglia di andarsi a prendere questa bega del Comune di Roma, per cui non ci sono competitor per i 5 Stelle. In parte lo stavamo anticipando prima, quindi la forza del Movimento 5 Stelle sta nella debolezza dei suoi avversari? Sicuramente, è in un consenso che ancora comunque resiste, secondo me, torno al Movimento 5 Stelle, alla figura di Beppe Grillo, a Roma anche di alcune figure comunque forti nel Movimento Romano come Roberta Lombardi, che è una competitor sicuramente di Virginia Raggio, è la sua nemica del cuore, però comunque c'è ancora molto interesse, secondo me, da parte dell'elettorato nei confronti del Movimento 5 Stelle e soprattutto non mi sembra che in questi mesi di giungi, di amministrazione grillina, né tantomeno in quella di commissariamento del Comune, nel PD, nel centrodestra, siano stati in grado di ripensare se stessi, ora il PD andrà al congresso, non si sa come. Ci arriviamo adesso sul dato nazionale, ma... No, a Roma, non che intendevo. Ah, certo, sì, è vero. Un'altra partita, insomma, che mi riterebbe di essere approfondita, ma i giornalisti sono stati un po' troppo cattivi con la Raggio, perché poi questo è quello che dicono tutti quelli che arrivano, no, infatti non la faccio a caso a te questa domanda. Io sono stata, e conservo e mantengo il mio giudizio sulla figura di Virginia Raggi, che io continuo a ritene... Un giudizio o un pregiudizio? Ma un giudizio, cioè un pregiudizio, siamo sempre chiaramente animati anche dal pregiudizio dovuto alle nostre convinzioni personali, alla nostra sensibilità, alla nostra provenienza, per cui sicuramente c'è anche una componente, come dire, di pregiudizio, però è anche vero che fin dalla campagna elettorale, io, cioè ci sono le prove scritte in cui io raccontavo anche di come Virginia Raggi si è arrivata a farsi eleggere candidata a sindaco dopo una battaglia che adesso sta ritornando sui giornali, cioè quello che è successo con De Vito e quindi delle dinamiche interne un po' particolari, un po' oscure che poi abbiamo ritrovato anche confermate da... o comunque che stanno trovando conferma in questi giorni mi faceva ritenere la figura di Virginia Raggi non adeguata al ruolo di sindaco della capitale, sicuramente una consigliera di maggioranza... cioè, ecco, Virginia Raggi mi sembrava una che politicamente, cioè, oltre alla consigliera comunale, che già non è pochissimo se si svolge questo lavoro fatto bene, non potesse andare, perché non aveva, secondo me, e non so se oggi ha, la consapevolezza del ruolo. Lei adesso si sforza di rivolgersi ai cittadini, eccetera, ma anche nel post in cui ha dato notizia dell'avviso di garanzia a suo carico, lei elencava di aver informato Beppe Grillo, il blog, gli assessori, i consiglieri e alla fine i cittadini, cioè lei ancora fa fatica a capire che lei è il sindaco di tutti i cittadini romani, anche di quelli che non l'hanno votata e che rappresenta un'istituzione, questo secondo me è il maggior limite, il problema di Regina Raggi, oltre a tutto quello che non ci dice sui suoi rapporti con Marra è perché si sia immolata e sacrificata per salvare lui. E vedremo, insomma, di scoprirlo a breve, tra poco andiamo anche sulla politica nazionale con Claudia Daconto, intanto ancora per quanto riguarda la sindaca Raggi, un po' tutti i siti stanno riprendendo questo post su Facebook, qui leggiamo da repubblica.it, Raggi, guerra e parcheggiatori abusivi, già 66 multati, la sindaca annuncia su Facebook i nuovi controlli effettuati dalla polizia locale, dunque un giro di vite, le quali effettivamente c'è e ce n'era bisogno nella nostra città, speriamo anche possa essere duraturo. Nel frattempo sul territorio che cosa accade? Oggi abbiamo fatto tappa nel parco archeologico di Centocelle, in potenza un posto meraviglioso, nella pratica un posto che sta vivendo da un mese a questa parte, fenomeni piuttosto inquietanti che allarmano la popolazione. Qui ci sono circa dai 5 ai 10 metri di immondizie indistinte, accumulate probabilmente dall'ultima bonifica perché non si riesce a capire come, per un canalone lungo 150 metri. Questo è tutto materiale plastico indistinto. Qui c'è questo gruppo, adesso ha circa 200 iscritti, si chatta tra noi e fino a notte inoltrata c'è proprio denuncia di odore insopportabile. Io stesso che abito nei palazzini qui a 300 metri, quando la sera scendo col canna all'una e mezza di notte, sento proprio l'odore perché poi quando non c'è, si sente questo odore acre che prende proprio i polmoni, non fa respirare. Una nube maleodorante che arriva fino ai quartieri più vicini, dal quadraro a Torpignattara. Siamo sul lato ovest del parco archeologico di Centocelle, precisamente nell'ex tunnel Mussolini. Da ormai un mese qui è scoppiato un incendio covante, vale a dire senza fiamme, che si sviluppa in condizioni di carenza di ossigeno. Le cause del rogo sarebbero dipese da un petardo scoppiato durante la notte di San Silvestro. Da quel giorno sono stati vari tentativi di domare il fumo sia dei vigili del fuoco che dei tecnici del Dipartimento Ambiente del Comune, ma nulla hanno potuto gli idranti e lo smassamento dei rifiuti superficiali. Immondizia che è qui da tempo, retaggio dei vari insediamenti abusivi sgomberati negli ultimi anni, dal casilino 700 alle favelas più piccole. Il presidente del quinto municipio Boccuzzi ha fatto sapere che la settimana scorsa si è svolto un incontro in prefettura, mentre l'Arpalazio ha avviato delle analisi sui rifiuti ammassati, perché è tanta la preoccupazione dei cittadini che ormai da un mese sono costretti a convivere con questa situazione. Sin dal secondo giorno dell'intervento dei vigili del fuoco si era palesato l'enorme problema di poter avere l'accesso in gallerie. Questi vigili del fuoco non sono riusciti ad entrare per la quantità e qualità di fumi nelle gallerie, non avevano addirittura attrezzature idonee al primo momento. Dopo sono subentrati con 7-8 camion di diversa specializzazione di intervento e dopo 48 ore hanno avuto ragione nell'ingresso delle gallerie e si sono trovati in una situazione folle là sotto. C'è la stessa tipo di immondizia che si vede qui e in più si sono creati, e lì è la cosa ancora più preoccupante, hanno notato e ci hanno riferito alla presenza di pozzanghe abbastanza consistenti, di liquami non definiti, che si suppone siano quelli che stiano bruciando in maniera silente in altra, perché non è solo questo che si vede qui l'incendio, perché ci sono altri odori che si spigionano in altri comignoli. Questo credo che sia già il terzo viaggio, perciò siamo a 30 mila litri in due giorni buttati in questa voragine dove fuoriesce il fumo, ma come va via dopo 10 minuti l'incendio è l'incendio, il fumo riprende perché c'è questo materiale in combusto e combusto sotto. Una cosa allucinante, qui c'è gente che vive in queste situazioni e dopo 16 giorni sono stati in grado di dirci in municipio che ancora non sapevano di chi fosse la competenza. Piuttosto allarmante Claudia Daconto, perché poi a vederle quelle stratificazioni di rifiuti che sono andate sedimentandosi, nel tempo lì c'era un campo Roma, ma è un po' come se ripercorressimo la storia disastrata degli ultimi 20-30 anni, 40 anni di gestione politica di questa città che ha permesso il verificarsi e il concretizzarsi di quelle situazioni. Sì, nel senso il presidente del municipio dov'è? Noi l'abbiamo contattato, c'è stato riferito che da oggi per 8 giorni è all'estero, quindi evidentemente poi torneremo a sentire. Se ne è occupato in questi giorni, è pienamente al corrente, naturalmente avrà certamente i suoi buoni motivi per andare fuori. Io abito nel 14esimo municipio, nello stesso municipio di Virginia Raggi, non c'è assolutamente questa situazione, però l'altro giorno per esempio percorrendo una strada che da Guadalupe mette su Via Taverna, che poi porta sulla Trionfale, si chiama Via Vergerio, che ci sta seguendo e abita da quelle parti, probabilmente avrà avuto occasione come me di vedere pascolare una simpaticissima famigliola di cinghialetti, cinghialotti anzi, è chiaro che questi animali arrivano nella zona più densamente urbanizzate, anche perché magari è una situazione meno visibile e grave di questa, però sono attratti chiaramente dalla sporcizia. io penso che veramente sui municipi è molto complicata la situazione, non mi sembra che ci siano le competenze, le capacità per far fronte a situazioni piccole e anche gravi come questa per quanto riguarda i rifiuti o lo stato dei servizi sociali che sento essere abbastanza complicata in molte zone. Allora hai due minuti per dirci quando si andrà a votare e chi vincerà le prossime elezioni politiche, prego. Non ho la palla di cristallo, credo che ormai inevitabilmente andremo a votare entro quest'anno. Ti tieni larga quindi, quest'anno solare. Entro quest'anno solare, chi vincerà con questa legge elettorale credo che sia impossibile dirsi, cioè che queste due leggi elettorali con cui voteremo alla Camera e al Senato, questi due consultellum non permetteranno mai di stabilire un vincitore, come avrebbe permesso l'Itali, come per quanto mi riguarda anche la vittoria del sì al referendum sulla riforma costituzionale. Per cui in questa situazione chiedere chi vincerà le elezioni è come chiedere chi, non lo so, cioè chi... Impossibile saperlo, quindi andremo nuovamente a votare. Non ci sarà nessun vincitore, cioè la risposta è no che non so chi vincerà, credo che non ci sarà alcun vincitore perché allo stato attuale, per carità c'è tutta una campagna elettorale da giocarsi, se nessun partito riuscirà ad aggiungere il 40%, in questo momento oggi i sondaggi vedono sia il PD che il Movimento 5 Stelle abbastanza lontani da questo obiettivo, però per carità non si dice ma, non è mai detto, poi ammesso pure che una delle forze in campo raggiunga il 40%, alla Camera benissimo, al Senato che facciamo? I frontman o frontwoman chi saranno? Perché poi anche su questo dobbiamo interrogarci dei diversi schede, per esempio il PD ci sarà Renzi in campo? Assolutamente sì. Non abbiamo dubbi su questo. Io penso proprio di no. Sul Movimento 5 Stelle? Non è detto che poi lui in caso il PD risultasse nel primo partito, ma non obbligato a fare una coalizione sia lui, cioè non credo che farà il Presidente del Consiglio, non è scontato che faccia il Presidente del Consiglio di un governo di coalizione, già stanno uscendo altri nomi eccetera eccetera. Nel Movimento 5 Stelle credo che Alessandro Di Battista in questo momento sia il preferito di Beppe Grillo, che comunque vedo assolutamente protagonista. Per una vicenda di mail, di lettura di mail, per queste storie qui? No, ma là si divideranno un po', sono bravi loro, cioè Alessandro Di Battista farà la sua parte, Di Maio farà la sua parte, cioè ognuno ha un ruolo, Fico farà la sua parte, cioè ognuno ha un ruolo dentro il Movimento 5 Stelle. Salvini-Meloni? Salvini-Meloni, dentro il centro-destra, io vedo in questo momento sicuramente complicata l'ipotesi di listone unico, perché mi sembra complicato, e anche su un'eventuale coalizione ex post, cioè in questo momento vedo Silvio Berlusconi veramente molto distante da Salvini, benché si parli, non so che si vedranno anche prossimamente, però insomma... Vedremo, ne avremo di cose da dire, da commentare. Intanto grazie a Claudia, da controllo di panorama.it, di essere intervenuta qui al Tg di Teleroma a 50...